Salve a tutti come sempre, bentornati e benvenuti qui su Pausa Caffè. Partiamo subito con la news, ma prima vi ricordo che potrete lasciare il vostro commento proprio qui sotto, oppure iscrivervi al canale per non perdervi nessuno di questi video. Ma passiamo alla news. Colpo di scena su Barbara D'Urso dopo la rottura con Mediaset. La conduttrice ha lasciato l'Italia e ha raggiunto un'altra nazione, dove la aspettano momenti sicuramente importanti. Nelle foto pubblicate dalla conduttrice TV, c'è lei decisamente molto felice, quindi avrà di fronte a sé un'esperienza da vivere tutta ad un fiato. Già nelle ore precedenti si era fatta vedere in aeroporto, in procinto di prendere un velivolo nonostante i suoi timori. In particolare aveva scritto, sto per affrontare la mia storica paura dell'aereo. Un'altra sfida con me stessa, è sempre l'ora di superare i propri limiti. Sarà l'inizio di una nuova avventura, e il nuovo aggiornamento è arrivato nelle ultime ore, con Barbara D'Urso che ha confermato di aver lasciato l'Italia ma il posto raggiunto non è più un'incognita. Ha svelato la città che la ospiterà prossimamente e dove si darà da fare per far parlare di lei. Inoltre, prima che Barbara D'Urso ufficializzasse il fatto di aver lasciato l'Italia, Novella 2000 ha rimarcato che ha voluto fare gli auguri a Mirta Merlino, che dal 4 settembre ha iniziato a condurre pomeriggio 5. Ora le chiavi di quella casa sono state date a Mirta, alla quale va da parte mia un grande in bocca al lupo. L'unica cosa che mi dispiace, come sapete, è non aver potuto salutare il mio pubblico dopo 15 anni insieme. Ma so che avete compreso che non è di peso da me. Barbara ha annunciato di essere arrivata in Inghilterra, nella capitale Londra, ieri il mio primo giorno di scuola. Vivrò a Londra per un periodo di tempo. È l'inizio di una nuova avventura. Continua. Cancelletto col cuore. Non ha specificato cosa farà realmente né per quanto rimarrà in terra britannica, ma l'attesa sta diventando spasmodica e quel continua fa capire che nei prossimi giorni fornirà ulteriori dettagli sul suo futuro. E molti utenti hanno confessato di sentire molto la mancanza di Barbara su Canale 5. Senza di lei è tutto insipido. Ad mai ora semper Barbara. Pomeriggio 5 senza di te non ha alcun senso. Torna a... Brava Barbara. Ottima scelta. Pomeriggio 5 può solo chiudere senza la tua presenza. Politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo vi saluto, mi raccomando vi aspetto al prossimo video. Ciao, un saluto da Max.